Il percorso dovrebbe essere tale da portare poi naturalmente ad una certificazione, quindi riuscire a creare un percorso guidato come d'altra parte è stato realizzato per la valutazione dei rischi, un documento di valutazione dei rischi che sintetizza tutti quelli che sono gli elementi che dobbiamo andare a considerare per portare a un documento che sia fruibile, leggibile e quindi utilizzabile ai fini del miglioramento, che è stato lo sforzo principale di questo primo anno di attività, anche nel sistema di gestione noi cercheremo di portare questo tipo di collaborazione. Ultimo è il sistema di indicazioni pratiche per la qualificazione dei fornitori, su questo qualcosa si sta muovendo, prima della caduta del governo c'era stata un'accelerazione, ora credo che l'unico documento che sia uscito in forma definitiva sia quello sui lavori confinati, ma ancora la parte normativa su questi elementi non ha chiarito, diciamo quali su diverse, se non per pochi appunto settori, quali devono essere i criteri per la qualificazione dei fornitori, quindi al momento ci siamo fermati a descrivere quali sono le opportunità, quali sono le cogenze, poche per la verità, e quali erano i documenti in via di sviluppo che poi sono arrivati ad una definizione normativa. Quali finalità ci siamo posti parlando del DVR? È quello di far sì che ci sia un maggiore coinvolgimento da parte del datore di lavoro, è stato sottolineato in parte da chi mi ha preceduto che c'è una difficoltà da parte del datore di lavoro di entrare nel merito di queste azioni, cioè gestire in proprio la sicurezza. Allora non pretendiamo che il datore di lavoro gestisca in proprio la sicurezza, ma almeno che abbia strumenti che siano in grado di permettergli di avere una maggiore consapevolezza del percorso che viene realizzato per poter gestire i rischi. Quindi affiancarsi sì a delle persone che possano supportare e portare ad una corretta definizione di un documento di valutazione dei rischi, ma partecipare a questo processo. È già un primo elemento questo fondamentalmente di risparmio nelle attività, ma il risparmio maggiore che ci si attende da questo è che questa consapevolezza porta poi a una diffusione della cultura della sicurezza all'interno dell'azienda fino a livello di chi è l'artefice della sicurezza, cioè il lavoratore. Cioè noi vogliamo arrivare a far sì che il lavoratore sia il principale attore della propria sicurezza. Quindi è ovvio che ci vuole un coinvolgimento che sia in grado di far sì che il datore di lavoro creda in questi strumenti, ma ci deve credere, se li capisce e se ha la possibilità di essere poi supportato in modo tale da entrare sempre più nel merito di questi elementi. Si diceva un documento che potesse essere, che possa essere leggibile, per essere leggibile dovrà essere sintetico, sintetico ma nello stesso tempo avere un certo elemento di completezza. Quindi arrivare ad una sintesi, ad arrivare ad un documento che sia il più sintetico possibile è stato uno degli obiettivi che noi ci siamo posti nell'andare a realizzare questo documento. Le possibili ricadute fondamentalmente le ho anticipate perché sono quelle che ho un po' descritto nelle finalità e negli obiettivi che ci hanno... Bene, per raggiungere quindi le finalità che ci siamo posti è stato quello di dare intanto una chiarezza metodologica al come affrontare la sicurezza nel... al come, scusate, realizzare un documento di valutazione rischi. Il modello quindi che viene proposto è un modello che viene guidato via via senza troppi elementi normativi all'inizio. A dire il vero, questo è un risultato che è stato frutto di... di step successivi, di iterazioni all'interno del comitato scientifico. Non è nato subito così ed è ancora migliorabile fondamentalmente. Quindi che questo percorso guidato permette di far sì di arrivare elemento per elemento a costruire, a capire ciò che si sta costruendo. Il ricorso a tabelle e schemi, tabelle e schemi che vengono indicate all'interno del documento vengono riportati anche alla fine del documento in modo tale da poter prendere questo come modello senza nemmeno guardare la parte iniziale che in realtà riprende questi elementi facendone anche degli esempi applicativi per favorire l'utilizzo e la comprensione dello strumento e dedicando anche una parte descrittiva in modo tale quindi che sia una manualistica per arrivare al modello. Per cui chi ormai è già abile in questo può prendere direttamente la parte finale e chi invece ha bisogno ancora di una parte introduttiva può nelle pagine iniziali vedere tutti questi documenti descritti. Il ricorso anche a immagini, disegni, fotografie la limitazione a quelle che sono delle descrizioni estese che porterebbero inevitabilmente a evitare la lettura e che possono essere di difficile comprensione un'immagine è molto più chiara e comprensibile far vedere un tipo di attività correttamente eseguita e un'attività non correttamente eseguita è molto più immediato di poter riportarla in forma scritta e in più è diretta anche a chi ha poca dimestichezza con il linguaggio. È chiaro che anche su questo saranno elementi poi importanti. Un altro elemento importante è stato la codifica molto spesso nei documenti abbiamo riscontrato che lo stesso concetto veniva riportato con descrizioni diverse questo fa perdere anche di precisione nell'andare a comprendere i contenuti del documento quindi abbiamo sempre più fatto riferimento a codici riferiti a zone, riferiti a mansioni, riferiti a ruoli e non fare riferimento troppo al nome proprio di persone che però ci sono perché ovviamente noi dobbiamo tutelare il lavoratore ma il lavoratore è legato poi a tutte queste attività, lavorazioni zone in cui dovrà operare attraverso questi codici di mansioni e quant'altro che poi faremo vedere. Qual è stata la parte diciamo di diagrammi di flusso che abbiamo ecco un altro elemento è quello della predisposizione anche di diagrammi di flusso che permettono di guidare anche gli elementi a ognuno di questi poi sono collegati a ognuna di queste caselle sono collegate poi delle schede fondamentalmente non a tutte è ovvio ma qui c'è una descrizione del processo però per uscire da ciascuna di questi elementi per arrivare poi a valutare i rischi e quindi l'identificazione fondamentalmente dei rischi identificarli tutti abbiamo dato uno schema di questo tipo che dopo sarà anche più chiaro nella parte successiva elenco delle zone di lavoro perché zone di lavoro abbiamo anche identificato zone di lavoro andando a racchiudere in un'unica zona tutte quelle che racchiudono rischi che sono assolutamente identici quindi uffici ad esempio collocati in zone differenti dell'ambiente di lavoro possono essere considerati come un'unica zona perché hanno gli stessi rischi sono soggetti presentano gli stessi pericoli e quindi possono portare a rischi identici ecco che allora per quanto riguarda le zone di lavoro esistono dei fattori di pericolo che sono caratteristici e specifici della zona di lavoro e in questo modo possiamo andare ad analizzare se sono presenti anche in più zone come rischi che si presentano in quali zone la tabella presenterà quindi tutto questo elenco di fattori di pericolo e le zone in cui questi si potranno riscontrare in modo tale da andare a verificare questo rischio questo pericolo è presente in questa zona in quest'altra in quest'altra dove ciascuna zona potrà essere rappresentativa di più locali passando poi alla parte che riguarda l'elenco delle mansioni perché per quanto riguarda le mansioni possiamo trovare dei rischi dei fattori di pericolo che sono legati ad aspetti comportamentali ed organizzativi anche se poi anche nella lavorazione ci può essere quindi nell'attività anche un fattore di pericolo comportamentale ma sicuramente è più facile che nella mansione queste siano presenti allora i fattori di pericolo comportamentali e organizzativi portano a un elenco di rischi che sono legati a questo tipo di attività del cittadino di attività alla mansione e qui c'è il legame già con i lavoratori perché le mansioni sono affidate ai lavoratori quindi sarà il lavoratore quale mansione quale lavorazione quale attività si passa poi quindi a analizzare quelle che sono le lavorazioni che vengono suddivise ancora ulteriormente in attività elementari per andare poi a identificare i rischi e qui siamo più nello specifico nel contatto uomo-macchina per intenderci ad analizzare quindi quali sono i rischi specifici legati a quel tipo di attività l'elenco di tutti questi rischi che abbiamo quindi identificato portano poi al successivo passo che è di valutazione rischi ma prima di passare a quello volevo far vedere lo schema che ci ha fondamentalmente guidato a ragionare nei termini suddetti questo può essere uno schema abbastanza complesso un numero di lavoratori neanche tanto elevato ma in un'azienda che potrebbe essere abbastanza avere già una certa struttura a ogni lavoratore può essere assegnata una o più mansioni ogni mansione ha più lavorazioni che devono essere eseguite e una stessa lavorazione può far capo a più di una mansione così come anche un'attività far capo a più di una lavorazione è per questo che quindi andare a ragionare a livello di rischi legati al rischio diretto al pericolo diretto che si corre nello svolgimento di una lavorazione guardando le attività permette di non replicare troppo all'interno del documento una stessa valutazione se non invece nel caso avessi proceduto lavorando per mansione avrei dovuto ripetere più volte quell'attività che concorre a diverse mansioni quindi questo permette di avere un elemento di semplificazione del documento quindi una minore ridondanza di pagine e una maggiore chiarezza anche di valutazione ecco qui c'è la prima criticità diciamo che dovrà essere sicuramente messa in evidenza che è già stata posta all'attenzione del comitato scientifico è nella valutazione dei rischi quindi una volta fatta l'individuazione dei fattori di pericolo e si passa alla valutazione del rischio abbiamo mantenuto quello che è il criterio che è il più largamente diffuso ma è ancora un criterio che effettivamente lascia dei margini di lavoro e di perché è ancora abbastanza suscettibile di soggettività è quello del valutare attraverso un P per D probabilità di accadimento e danno l'entità del rischio stiamo parlando principalmente di rischi infortunistici perché ovviamente per quanto riguarda la parte di rischi specifici questo è un elemento che non è traducibile generalmente in un P per D e quindi dovrà essere poi inglobato all'interno del documento in maniera differente abbiamo aggiunto qualche cosa per dare almeno un elemento in più di valutazione e soprattutto per permettere anche una gestione a livello già di piccolo sistema di gestione in questo metodo di valutazione di valutazione